Allora, con la vincitrice di Masterchef, celeberrimo programma TV reality sulla cucina, ovviamente il rapporto anche con il vino, sappiamo che sei un'appassionata, quindi insomma quanto è importante questo binomio che può essere a volte il matrimonio d'amore tra il vino e la cucina? È importantissimo, io sono sempre studiato molto di vini, praticato molto, degustato molto, sto facendo dei corsi, attualmente sono iscritta all'AIS e per me i vini sono importantissimi e ho studiato dei piatti che si sposano appositamente con i vini, oggi mi faranno fare una mystery box, non so nulla di cosa accadrà. Senti, quando pensi ad un piatto immagini il vino che potrebbe andare bene o viceversa? Ma a volte viceversa, anzi spesso, soprattutto quando c'è una bottiglia importante, io penso al piatto in funzione del vino a volte, perché è difficile, non sempre in cantina si hanno tutti i vini adatti a quello che viene in mente in cucina, quindi a volte vale la pena di comprare una bottiglia speciale e dedicargli un piatto. Quindi insomma abbiniamo a un grande piatto un grande vino, altrimenti se il vino non è buono muoro. Muoro, io muoro con un vino cattivo.